Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di TV City in apertura la cronaca operazione congiunta di guardia di finanza e carabinieri scattano 17 misure cautelari nel napoletano per contrabbando di sigarette. Il consueto aggiornamento sui contagi a Torre del Greco cambia ancora lo scenario con un aumento delle guarigioni. Voltiamo pagina, il comune di Torre del Greco va verso la digitalizzazione dei servizi, da domani sarà possibile richiedere online certificati anagrafici, questa mattina la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Baronale. In chiusura siamo sempre a Torre del Greco, l'emergenza sanitaria ferma anche quest'anno la tradizionale processione del carro trionfale dell'Immacolata per le vie della città, ma come più volte ribadito da Don Giosuè, la Madonna più che portarla sulle spalle occorre portarla nel cuore tutti i giorni. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Scattati i 17 provvedimenti cautelari da parte del GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di cittadini ritenuti implicati in iniziative di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, prevalentemente provenienti dall'est Europa. È stato calcolato che durante tutta l'attività criminale abbiano movimentato complessivamente 27 tonnellate di bionde corrispondenti a un valore di mercato di 2,7 milioni di euro. Già sequestrati e adesso confiscati anche due immobili utilizzati per lo stoccaggio dei tabacchi lavorati esteri, per un valore di oltre 250 mila euro. Nelle indagini svolte tra l'estate del 2015 e 2017 sono stati individuati e monitorati sia gli immobili destinati a deposito che gli automezzi utilizzati per le consegne delle forniture illegali. Gli indagati per l'associazione delinquere sono stati colti in fallo dopo i controlli dei comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica Partenopea, eseguiti dal capoluogo partenopeo e provincia. In totale sono 67 le persone coinvolte nelle attività investigative. Per uno degli indiziati è stata applicata la custodia in carcere, per altri 7 gli arresti domiciliari. Ad altri 7 sarà impedito il divieto di dimora nella provincia di Napoli, mentre due restanti l'obbligo di dimora. L'associazione criminale era inserita all'interno della catena distributiva di contrabbando ad un livello intermedio. Infatti, disponendo di magazzini clandestini intestati ad alcuni prestanome, hanno gestito il commercio illegale distribuendo le forniture alle cosiddette bancarelle, fra le marche più commercializzate Marlboro, Regina, Rotmans, Chesterfield, Minsk e Marlboro. Snellire le procedure e ridurre i tempi agli sportelli Il comune editore del Greco va verso la digitalizzazione dei servizi. Le novità sono state illustrate questa mattina nel corso della conferenza stampa a Palazzo Baronale. Già a partire da domani sarà possibile richiedere online certificati anagrafici e autocertificazioni accedendo con lo speed o la carta d'identità elettronica a Smart NPR o sul portale web del sito istituzionale del comune o scaricando l'app. Alla conferenza stampa sono intervenuti in sala consigliare il sindaco Giovanni Palomba, l'assessore a ramo Giuseppe Speranza e il dirigente ai servizi demografici Andrea Formisano, l'istruttore informatico del comune Palmerino Colamarino. Un servizio importante per i cittadini di Torre del Greco che in questi mesi spesso sono stati costretti a subire lunghe file e ore d'attesa. È inevitabile adottare questo sistema che ci offre la possibilità di ridurre enormemente il lavoro agli sportelli, ai nostri dipendenti che sono già in numero risicato. Una scelta che nasce anche dopo tutti i disagi vissuti in questi mesi per le difficoltà e la mancanza d'organico all'ufficio Anagrafe. Il disagio noi lo viviamo prima da cittadini e poi anche da politici e da amministratori. Sicuramente a noi altri non fa piacere avere enormi file lì all'ufficio rilascio carti di identità o in altri uffici. Quindi abbiamo ritenuto con questo primo passo, con questa prima attività, incominciare ad alleggerire un pochettino quello che è il peso anche psicologico in alcuni momenti di questa attività. Con la digitalizzazione tentiamo appunto di fornire i servizi necessari ai cittadini di Dore del Greco, tra cui io sto puntando anche per quanto riguarda l'urbanistica e diciamo quello che è il nocciolo duro per quanto riguarda il nostro comune. Dunque snellire le procedure e ridurre i tempi? Sicuramente, perché dobbiamo stare comunque al passo con quelle che sono le linee guide del governo centrale. Ormai tutti i modelli unici, i 730, possono essere fatti online come anche nella fatturazione elettronica o rispettivi elettronici. Ormai è il futuro. Palmerino Colamarino, istruttore informatico del comune editore del Greco. Come si farà ad accedere a questa piattaforma? Qual è la procedura? Domani mattina sarà disponibile sul sito istituzionale del comune il classico clicca qui che comprenderà un link dove verremo smistati automaticamente presso questo applicativo che abbiamo acquistato che è già personalizzato per il comune di Torre del Greco. L'accesso potrà avvenire con due metodologie. Potrà avvenire o tramite lo speed, la classica identità digitale, o tramite la carta d'identità elettronica, la nuova carta d'identità. Quando c'è stata consegnata, c'è stato consegnato un PIN, metà quando l'abbiamo richiesta, metà quando c'è stato fisicamente consegnato all'azienda. Quello sarà il nostro PIN per l'accesso tramite la carta d'identità. Una volta all'interno del sistema è molto facile da utilizzare, ci chiederà che tipo di certificato vogliamo facendoci scegliere tra una lista di certificati, se il certificato è relativo alla nostra persona fisica o se è relativo ad un componente del nostro nucleo familiare anagrafico. Cosa significa? Che se io voglio chiedere un certificato per mio figlio, che fa uno stato di famiglia a parte, non posso chiederlo. Una volta scelto il certificato ci chiederà l'utilizzazione che dobbiamo fare di questo certificato. Questo ce lo chiede per i cosiddetti certificati in bollo. Qualora noi dovessimo emettere un certificato in bollo, abbiamo l'onere di acquistare la marca da bollo prima di scegliere il certificato. Al momento che diciamo che ci serve per un uso che serve per il bollo, la procedura ci chiederà il codice univoco di quella marca da bollo, che è un codice a 14 cifre stampato sulla marca. Non farà nient'altro che sul sistema dell'agenzia delle entrate rendere inutilizzabile quella marca perché ci dirà che è stata utilizzata per un certificato e quando andremo a produrre il certificato che viene in PDFA, il nuovo standard anche per la trasmissione telematica, indicherà il numero della marca da bollo, quindi successivamente possiamo addirittura spedirlo via email a qualcuno e il certificato risulterà in bollo con la marca da bollo virtuale. Altrimenti lo possiamo regolarmente stampare, applichiamo o non applichiamo la marca da bollo fisicamente, quella marca da bollo è annullata e possiamo consegnarlo dove lì c'è stato richiesto. In questa fase definiamo la pseudo sperimentale, è legato esclusivamente ai residenti del comune di Torre del Greco, è in procinto, in fase di studio, allargare a delle categorie, a delle associazioni di categorie quali i tabaccai, i CAF, gli edicolanti, gli avvocati, l'opportunità per quelle persone che non hanno né lo speed né la nuova carta d'identità regarsi lì ed emettere un certificato evitando le file giù agli sportelli del comune. Tornano ad aumentare le guarigioni nel comune di Torre del Greco rispetto agli ultimi giorni. Le guarigioni registrate sono infatti 17, invece sono 11 i nuovi casi di positività accertati. Attestato anche il passaggio di un soggetto positivo dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare. Il totale degli ospedalizzati è quindi di 12 pazienti, mentre in isolamento domiciliare risultano 92 contagiati. Stanno i dati del bollettino regionale, i positivi del giorno sono 129, su un totale di 5.564 tamponi processati. I posti letto in terapia intensiva occupati ammontano a 14 e quelli occupati in degenza a 178. Maria Immacolata, segno di salvezza e di speranza. Parole che racchiudono il senso di quello che sarà l'8 dicembre 2021, il giorno più atteso dai cittadini di Torre del Greco e che anche quest'anno vivranno senza la processione del carro trionfale dell'Immacolata per le vie della città. Una scelta obbligata dall'emergenza sanitaria non ancora conclusa, secondo le norme previste dal protocollo CEI e Governo italiano e le disposizioni dei Vescovi Campani e dell'Arcivescovo Battaglia per le norme anti-Covid. Lo hanno risonoto con un comunicato domenica sera Don Giosuè, Don Antonio e il Consiglio Pastorale. Per tali ragioni, anche quest'anno, la venerata immagine dell'Immacolata sarà esposta in Basilica, come l'anno precedente, su un'apposita struttura che per l'occasione utilizzerà il tradizionale scivolo del carro trionfale e sarà circondata da tutti i puttini con i simboli mariani. Il bozzetto e la realizzazione della struttura sono opera di Riccardo Lamberti. Quest'anno si celebrano i 160 anni del voto. Una promessa, una catena che non si è mai spezzata, un legame indissolubile, antico e profondo con la Vergine Maria. Fede, devozione, storia, tradizione, l'Immacolata per il popolo torrese è tutto. Una notizia appresa ancora una volta con amarezza dalla comunità che sperava di rivivere le emozioni dell'8 dicembre, ma come più volte affermato da Don Giosuè, la Madonna, più che portarla sulle spalle, occorre portarla nel cuore tutti i giorni sulle strade della vita. Per venire incontro al desiderio di venerazione da parte dei fedeli, anche quest'anno l'immagine della Madonna resterà esposta nella navata centrale della Basilica per tutto il periodo delle feste natalizie, fino all'8 gennaio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.